Benvenuti in buon sabato in Multiversus, ora giochiamo in Multiversus. State pronti! Il giocatore e vediamo se possiamo fare qualcosa di più. Perciò che apprezzate che in Multiversus metterà il piccolo Lick, se c'è una Lick, sono separato. Non temere, ci andrò nel piano. Match point! Squadra blu! Grirpiti! Scopri! Perciò che da un giallo? Passare! Si tratta! L'unico è vero. Chi si salvano! Accorlek. non è vero